ciao dolciottini e dolciottini benvenuti in un nuovissimo video oggi siamo al parco allora visto che siamo al parco tutto bello tutto verde e anche rosso molto colorato perché siamo anche da turno tutto bello volevo stare con un pochino con voi e fare qualcosa ho portato qualcosa del cibo visto che qui a fianco c'è un lago voler ha visto che ci sono dei pesci possiamo andarli da mangiare andiamo andiamo allora comunque iscrivetevi al canale attivate la campanellina comunque visto che ho un canale is short se andatemi a seguire ha fatto il mio primo chat se e commentate che lì mi potete commentare io vi dare un cuoricino e vi commenterò anche voi tini comunque io amo l'autunno e la primavera perché sono le stagioni più belle soprattutto le bellissime guardate è uno spettacolo l'autunno guardate dolcettini c'è un lago questo non è però sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La carta, spero che ci sia scritto qualcosa e comunque mi sembrava strano perché lì c'è un bidone per buttare tutto. Avete visto che ho buttato la plastica dentro al cestino? Grazie a tutti. La carta, spero che ci sia un bidone per buttare tutto. Amore, avete visto, sei vista? Questa porta magica non l'aprirò mai più. Mai, mai più. Mai. Mamma mia, ce l'abbiamo fatto, quell'albero. Era una porta magica. Mi ha portato qui. Che è la mia, con Iris. Comunque, dolcettini, dolcettini, abbiamo ritrovato il nostro Iris. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel like e andate a vedere i miei short. Un baci, un bacione grande. Un bacione grande.